Il brano si chiama Senza Ete, l'ho scoperto casualmente all'Arena di Verona e durante le prove mi è stata data questa parte, lo score, la partitura per pianoforte, e mentre la provavo con Pino e la mannoia ho incominciato a piangere per la bellezza del brano. Perché prima Pino aveva un modo di scrivere che era fuori dal comune, romantico, melodico, stimolante, evocativo, di ispirazione, per cui mi sono commossa letteralmente e alla fine delle prove il figlio che riportava, Alessandro che gli ha detto a Pino, e Pino è venuto nei camerini e ha detto ma vannitta che ti sei emozionato, che ti sei misacchiato. Per cui questo brano è legato a dei momenti veramente intensi, come ogni brano di Pino.